Sono arrivati a destinazione nella serata di ieri i furgoni del Corriere di Poste Italiana SDA per la consegna delle prime 47.000 dosi di vaccino anti-covid moderna in diverse zone d'Italia. Mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere da 1.300 litri ciascuna sono partiti ieri sera dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma, lo fa sapere l'Ansa Campania. L'azienda, che già da tempo collabora con il commissario straordinario, si sta occupando della consegna con un network dedicato che consentirà di collegare l'Istituto Superiore di Sanità di Roma direttamente con le asle e gli ospedali interessati da questa prima fornitura, in Campania l'Ansa Napoli 1 Centro e l'Ansa di Salerno. La Campania è così tra le prime regioni a ricevere il siero. Il gruppo guidato da Matteo Delfante in questi mesi ha anche consegnato mascherine protettive nelle scuole per conto della struttura del commissario straordinario per l'emergenza covid, Domenico Arcuri, e per cittadini over 75, di ricevere gratuitamente la pensione a domicilio stringendo una convenzione con l'arma dei carabinieri.